Geolier, il nuovo Pino Daniele della generazione rap napoletana. Questo è l'incredibile paragone fatto dopo il concerto del rapper napoletano. Ma prima di raccontarti tutti i dettagli, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille! Geolier rincarna lo spirito di Napoli. Concerto epico allo Stadio Maradona. Lascia tutti senza parole. In una notte memorabile allo Stadio Maradona, Geolier ha dimostrato di essere il Pino Daniele della sua generazione. Con tutte le ovvie differenze, il giovane rapper ha seguito le orme dei grandi artisti napoletani, superando tutti e conquistando il cuore di oltre 48.000 fan. E tu cosa ne pensi di questo paragone tra il rapper napoletano e il mito della musica italiana? Napoli, già negli anni settanta, ha visto emergere figure come James Senese, Tony Esposito e Tullio D'Episcopo. Pino Daniele, inizialmente un comprimario, è diventato una leggenda assoluta, cambiando la scena musicale. Oggi, Geolier ripete quell'impresa nella scena rap napoletana, portando un nuovo suono e un'energia ineguagliabile. Il primo concerto di Geolier allo Stadio Maradona ha mostrato la sua straordinaria capacità di connettersi con il pubblico. «Quando un giorno sbaglierò, dovete sgridarmi come si fa coi figli, perché io sono un vostro figlio», ha dichiarato Geolier, ricevendo un'ovazione dagli spettatori. Geolier non ha dimenticato i suoi eroi, dedicando le tre serate del concerto a figure come Pino Daniele, Troisi, Totò e Maradona. «Forse uno dei quattro che ho nominato a questo muccusiello lo avrebbe apprezzato», ha detto emozionato, ricordando l'influenza di Pino Daniele, che aveva intuito il potere del rap prendendo sotto la sua ala artisti come Clementino e Rocco Hunt. Il concerto è stato un viaggio attraverso i successi di Geolier, con una scaletta che ha incluso hit come «Money», «Sista Tu», «Moncler», «Ricchezza», «Nous parle nous», «Saint nous véc» e «Ultima poesia». La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali come Luquet, Mavi, Tony F. e Gigi D'Alessio, che hanno reso l'evento ancora più indimenticabile. Geolier ha utilizzato la piattaforma per condividere messaggi personali e sociali, chiedendo al pubblico di promettere di sgridarlo come un figlio se mai dovesse sbagliare. Ha difeso la sua città e la sua musica contro le critiche, affermando «Noi raccontiamo, non abbiamo responsabilità di educare. La musica ci ha salvato dalla strada». Con una promessa di non cambiare mai, Geolier ha annunciato un nuovo concerto all'Ippodromo di Agnano il 25 luglio 2025, assicurando che la sua storia è tutt'altro che finita. Questo evento straordinario ha consolidato il suo status come uno dei figli più talentuosi e autentici di Napoli, capace di portare avanti l'eredità musicale della città con orgoglio e innovazione. Geolier non è solo un rapper, ma un simbolo di una nuova generazione che racconta le proprie storie con passione e verità, proprio come fece Pino Daniele prima di lui. Grazie a tutti.